benvenuti da Mr Gadget non perderemo tantissimo tempo perderemo nel senso che non useremo tantissimo tempo per il tema di oggi che è quello del confronto dopo circa due mesi di utilizzo del Samsung Galaxy S4 è arrivato in circolazione esattamente il 27 di aprile in circolazione quindi da più di due mesi ormai e quindi c'è stato modo di utilizzarlo per bene di capire bene quali siano i pregi e quali siano i difetti per chi avesse bisogno di un rinfreschino diamo ancora un occhio come fatto il telefono 4.99 non sono 5 pollici non mi correggete quando dico 4,99 perché divento una iena divento verde come Hulk anzi divento verde come Borghezio 4.99 pollici di diagonale poi volume rocker su questo lato sulla parte superiore connessione delle cuffie e buchetto degli infrarossi per giocare a comandare la televisione dal telefono e poi anche il pulsante di accensione su questo lato che è invece altrimenti molto pulito microfono e connettore usb sul basso sul retro l'alto parlantino con il suo scalino per sollevarlo da terra fotocamera da 13 megapixel lo sapete che il processore comunque del sensore della fotocamera è un sony con il flash led se apro questo telefono che è una cosa che è rara da poter fare oggi ma con il samsung galaxy s4 si può fare micro sd espansione di memoria con micro sd micro sim espansione di memoria con micro sd e poi la batteria che vedete insomma è un bel mammottone proprio che comunque secondo me oggi con diversi cicli di carica con l'ottimizzazione anche del software arrivata permette di arrivare fino alla fine della giornata chiedo ancora una mano a francesco per dare un occhio ad una cosa allora questo telefono secondo me quando è arrivato all'inizio della sua storia della sua carriera era abbastanza catastrofico nel senso che a me non piaceva il fatto che avesse una reattività molto bassa avesse dei lag anche evidenti in alcune parti del telefono ricordo ad esempio è quello che succedeva con la galleria che una volta aperta chiedeva veramente tanto tempo per accedere alle aree che venivano selezionate ecco diciamo che molti di questi aspetti sono stati migliorati anche se non del tutto vedete ad esempio prima avevo tappato ma non correttamente vedete che adesso praticamente è stata aperta la galleria abbastanza velocemente e anche l'uscita pur avendo qualche micro lag comunque è migliorata molto vedete anche l'apertura delle applicazioni che poi è ovvio è un utilizzo molto ridotto del telefono cioè non dovremmo stare a vedere con l'apertura delle applicazioni se un quad core funziona o meno però tutto sommato dei difetti anche evidenti che avevamo in passato sono stati sicuramente corretti con questo periodo però quello che volevo mostrarvi quando riesco a superare la mia crisi neuronica mattutina è il fatto che comunque questo telefono adesso è migliorato secondo me abbastanza da una release con l'altra in particolare con l'ultima release quella che ha come sigla bmea qualcosa del del genere che è stata rilasciata un po ovunque il browser chrome si è comportato bene sin dall'inizio allora per diciamo correttezza e per completezza andiamo a vedere anche come si presenta invece il browser che era al centro di tanti scandali di tante discussioni e che credo che addirittura all'onu si fossero fermati dicendo come è possibile che i coreani ci facciano un browser del genere embargo per i coreani in realtà insomma abbiamo visto che all'inizio proprio c'era qualche lag un po di troppo secondo me con le varie release di software la situazione sta migliorando è il più veloce sul mercato questo telefono secondo me nì nel senso che in questo momento non c'è una grandissima ecco guardate questo è il caricamento è già terminato e questo è il browser stock vedete che anche salendo scendendo questi questi scattini queste cose che però io dico non esageriamo nel valutare i telefoni cioè non può essere una cosa per cui diciamo che il telefono è brutto che fa schifo diciamo che è un'area migliorabile però non bisogna neanche cedere facendo una valutazione per cui dire scandaloso perché fa degli scattini il browser secondo me è meno questo mio parere del tutto personale che cos'altro si può dire nel samsung galaxy s4 dopo due mesi che probabilmente piano piano 4 4 senza fare tanto rumore è diventato il telefono che io uso con più piacere nel globale comunque il fatto che abbia una possibilità di essere impugnato molto facile da un grip che è di gran lunga superiore a quello della HTC One comunque uno schermo così grande con una generosità di colori con un bel impatto che poi ognuno di noi può andare comunque a migliorare perché lo sapete che potete comunque andare a scegliere quale tipo di modalità utilizzare dello schermo potete scegliere di ottimizzarla la cosa che molti consigliano è quella di utilizzare questo standard cioè lo standard filmato dovrebbe essere quello con la tonalità di colori migliore in assoluto mentre la modalità dell'ottimizzazione dello schermo che avevo dimenticato inserito facendo delle prove l'altro giorno in realtà non è il massimo quindi insomma che dire io a distanza di due mesi vi dico che questo è un telefono che comunque ha un ottimo hardware ha delle performance che sono buone migliorabili sicuramente nel tempo se qualcuno oggi mi dovesse chiedere qual è il miglior telefono da comprare forse non metto al primo posto questo telefono per una questione di qualità prezzo perché in questo momento con il Sony Xperia Z a 499 euro come capita di trovare online in diversi siti diciamo che non ci metto la differenza di prezzo che oggi viene richiesta per le piccole specifiche migliorative del Samsung Galaxy S4 però a distanza di due mesi vi dico che questo è un prodotto che diventerà un milestone della tecnologia perché comunque ha delle specifiche veramente potenti poi vi può piacere o non vi può piacere quello è un altro argomento ma onestamente Samsung ha fatto un ottimo lavoro ha bisogno ancora di ottimizzazioni ma siamo davanti a un prodotto un pezzo di tecnologia davvero notevole